Ciao Ciao Dai dai Peter Peter Parker Sistema Comunque tu ti giuro Pietro è un personaggio di un film Un personaggio di un film Quale canzone? Adoro sta canzone ma quale? Non è qui Sono positiva Buon lavoro Guarda la porta Guarda la porta Guarda Non è qui Sono positiva Buon lavoro Guarda la porta Guarda Guarda Ciao 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 Pietro Ma come va? Cosa state facendo? Svegliamo 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 Ciao 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 Ehi Chi ce l'hai? Rex Vero Oggi mi sono svegliata A vedere Unque so Qua c'è una tua compaesana Chi è? Cosa? Ehi Ciao Ciao Compasani E anche sotto Io dormisco in mezzo Della sole Non ce l'ho fatto Non ce l'ho fatto Non ce l'ho fatto Qua c'è Gio 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 Yin io non sono mai compatta con la live credo come cosa dire quel occhiolino no christian non voglio nulla io da te mi sono fatto la doccia ieri pugno di denti ora stacca di denti saluta salutiamo oh ciao ciubi come è così è così no raga non cercate esatto christian come va con samara ma che perché laura di fabrizio arrivo saluta ma che cacchio è che cosa mi trovo non ti basta nemmeno per i della pringles bella una bella bottiglia vabbè vai maria si è qua ciao ora dove lo faccio il telefono allora io sto preparando il quiz per la live twitch di domani non vi spoilerò niente più basta basta in vita ma non c'è il live c'è vabbè impossibile quando c'ha un culo così grande ma ramsk cioè come stai bene voi come state vai ok ci sto giochiamo fai 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 tutte le domande che vuoi non mi è usciuta una polvere basta con queste polvere non ce la faccio più non ci credo non ci credo sì ma non sugli altri cioè non mi posso spoilerare troppo poi magari ve lo spoilerò tra di noi qui qui no arrivo stanza preferita dell'house a me la piscina qual è il tuo posto preferito in house e ramsk sotto il tuo letto dai no è il mostro farmaggino sotto il letto vieni qua il posto preferito è su quel muretto di là ah il muretto fuori che tra l'altro può decidere se buttarsi giù e finire la sua vita o può pensare alla sua vita canzone preferita ma io non ne ho ho qualche cantante preferito cantante preferito cantante preferito cantante preferito adriano c'è lontano secondo me non sa nemmeno una canzone vieni qua colore preferito azzurro blu ragazzi in tutto ciò oggi registrerò il mio secondo video youtube e uscirà giovedì colore preferito viola lilla e rosa è il mio colore preferito facciamoci un attimo conoscere amici stanza dell'house preferita sicuramente sta la twitch giù perché è fighissimo la luce vabbè il posto poi palestra anche se non ci vado una però da domani ci vado no da oggi ci vado assieme ad asia me la trascino dietro ragazzi no asia deve fare il video youtube eh no più tardi no ok dopo quello io finisco il mio entro le due di pomeriggio poi no no lei si è prenotata tutta la giornata fino a che ora ci sta il tutto non lo so mi serve proprio ok però dobbiamo registrare anche quello mio come Lynn prima faccio il mio poi faccio come tu sì ma io finisco quello mio tu finisci quello tuo e poi facciamo quello mio ah se coincidiamo i due orari certo sì ma è tardi mi serve tipo le 7 di no ho la live anche oggi su twitch ho anche la live su twitch alle 20 io non sono riuscita a farla perché dovevo registrare questo video qui molto molto figo di make up non posso spoilerare nulla però vi faccio vedere solamente in tagli che ho fatto cioè io sono rimasta un botto sveglia non puoi capire ah guardate quanti tagli cioè con quanta pazienza io non lo so ieri ti sei vestita tutta di beige oggi tutta di verde domani in ogni caso domani si continui vestiti domani blu immagino che molte persone siano a scuola vero no un sacco di loro sono positive sono a casa sotto sì perché mi piace storto mi piace così cioè così mi non esageriamo sei tu quella che è sempre col cellulare non so sei tu quella cosa hai detto Maria? che sei tu quella che sei tu quella non so non so se ti ho resi conto però ho sistemato la mia foto che è strafiga che uscirà fuori però adesso è in mini mini ti piace? bella ah la vedrai la vedrai l'ho cambiata ho sistemato tutto anche le storie in evidenza ho messo un sacco di cose infatti dovete andare a spolliciare subito spolliciare tappare beh vedere guardare e niente non so se vi siete persi questa foto qui oggi faccio anche le foto devo fare tutto infatti adesso rega io vado anche a lavarmi un attimo sempre se Patrizio riesce da quel bagno e vado a lavarmi i capelli poi vado a registrare questo video dai ragazzi io vi saluto ci vediamo all'ora di pranzo si carichi per oggi dai oi allora 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 vai altre domande oh ci sono qui che segno sei scorpione siamo un sacco di scorpioni quinauso è san valentino con una persona molto cioè non potete proprio capire con chi lo passerò non vi spoilerò nulla con chi passerai san valentino Asia vieni qua colore preferito bianco stanza dell'house preferita la mia è sta nostra parte c'è oltre la tua camera che ti piace della dell'house la piscina brava raga passeremo san valentino insieme mi sa adesso posso meglio soli che mal accompagnate non volevo continuare la frase vabbè ci penso io ci penso io c'è un esemplare di pat 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 niente uova oggi no niente uova oggi se non giudicare io cancro io scorpione lo sai sono ascendente cancro adia domani vado via ora come fa Asia senza ti che palle però non è giusto anch'io voglio voglio scegliere sono oggi quanto mai è giovedì ciao questo è il telefono passa il telefono a Laura oddio ti sei girata tu per sbaglio vabbè lasciamo stare questo che cosa mi sto non è giusto prosciutto poi e rubiola buona apposita la rubiola prova a metterci la mozzarella filante ah si orca miseria prossimo un altro povero che dite come state non siete a scuola non andate a scuola a quest'ora ciao 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 iris io sono positiva che fai che fai oggi che fai oggi devo fare un sacco di contenuti siete tutti in dad c'è la live guardate chi c'è raccontagli quello che è successo stamattina allora ti ho mangiato un capello bene allora ragazzuoli vi spiego cosa è successo stamattina la signora Laura dovevamo io e la signora Laura dovevamo andare dal paninaro il problema è che io ero pronto già alle nove e mezza dieci e lei mi fa cinque minuti e arrivo cinque minuti è stato lì sette ore sette ore ad aspettarla ad aspettarla ad aspettarla dopo mezz'ora si è degnata di arrivare e siamo andati a mangiare il panino sono stanco sonno eh io pure si è rotto il pandino no 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 che si è rotto il pandino oh il pandino è sagro dove sta? fuori vuoi accompagnarmi a fare benzina? mh quando? eh a 3-5 minuti cioè quando finisci il panino perché c'ho il coso vuoto e stasera devo andare con la New Dream se mi serve ok il gasolio comunque c'è tantissima gente oh dio scusa io c'ho passo il telefono a qualcuno no 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 sono infame ma perché c'è il telefono? no allora non c'è ah vuoi parlare? ma hai detto l'olio di dattero vuoi parlare? ah non c'è la soluzione? facciamo poi una schematica eccoci qua ragazzi io il mio amico Pat il mio compare stava giocando a perdersi e poi alla fine ha vinto allora ramschino ue 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 ragazzi guardate cosa mi hanno portato oggi da mangiare un panino un panino sì vai vai un panino è una bella monster no no stavo scherzando sicuro? guarda ecco è un cane questo qua è una sanguisuga dello Stato è una sanguisuga dello Stato sanguisuga vabbè Gianni Gianni l'abbiamo già messo ma che fai? oh che è? che è capogliano? ma ne vedi non è vero vedi vedi un'altra sanguisuga dello Stato un'altra sanguisuga dello Stato siamo tutte sanguisuga dello Stato io non pago le tasse lei vado pure lui fate le tasse no mi risolgo ce vediamo facciamo la fine di step è buona questa cosa no mi risolgo pure io saluto volete Rex rex? rex qua c'è Laura la mia lauretta qua c'è la sietta 12 sietta 12 tutti positivi eh che secchio c'è Ergi no ma non c'è Ergi no ma non c'è Ergi qua ce l'hai visto? no c'è uno rinato eh? ah c'è no zè allora c'è allora c'è allora c'è allora si raga non mi sono stirati i capelli ieri non vaffanculo non lo lascio lì il nostro eeeh dovrebbe essere papaya eeeh e qualcosa eeeh e mango eeeh e io non fumo per Rams come va nel conquistare Laura? eh ci stiamo riuscendo piano 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 lui sta vedendo pure progressi vero 14 ieri ho visto un bacio io esatto erai live durante il pranzo durante il pranzo quindi non mancate del live lui con Andrea cioè un casino ragazzi in questa casa stanno succedendo delle cose lui sta morendo freddo c'è una cosa pazzesca ma cosa? che stai a ditemi? ma che stai a ditemi? maria saluta maria 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 tieni qua sto per lasciarci la mano ma mi ha fermo 15 minuti io mi distocio da tutto quello che ha detto Adam non ho detto niente ho detto che di fransco si è baciato con Laura ah ok e qualcuno ha detto che si è baciato con Andrea ragazzi io sono baciato con Asia Bush Antella 4 giorni restiamo qua manco manco tanto la parte comunque Omar è un pericolo pubblico c'è nel senso che è un pericolo pubblico che è un pericolo pubblico ieri la facciamo tutto o questo o questo mamma mia io dove c'è E mo mo mo, raga, tempo al tempo, tempo al tempo Oh, ma tutto bene? Ma tutto bene? Ma tutto bene? Oggi è nervoso 13 Madonna, sempre nervoso 3 andiamo a togliere Ma perché prendo io il telefono in mano e mi chiedono Ci racconti i gossip sui componenti della house? Dicevo che diciamo Proprio una Tipo una calamita Allora E tipo 27 Allora, vi racconto qualche gossip Allora, partiamo da Ransk E' andato a letto con Ronaldinho Fit the Wave Che è il Asia, sei stanca? Chiedono Ragazzi Asia è distrutta dalla vita Dall'adolescente Perché lei è ormai In un periodo di adolescenza Capito? Cioè, vai per i capelli Guarda il mister Quando? E... Per quanto? Bravi Tutti i bambini No! Pati Oh, ragazzi Pati Giuro vi prendo a... No, ragazzi Pati posso chiamarsi uno Sui io Esatto Pati 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 Mi mando di Pati Bravi che avevo benessero Pati Pati non fumare Ma chi è che fumare? Vabbè Oh, se chiedete di Mura Aurora O di altre persone Quando ci sono io Ora Staccano la life Oh, cattivo La prima cosa è Blocco Blocco Ti brimo in Italia Anzi no, ci diamo Io sobraccio insuro Ho fatto Uno, due, tre Ne abbiamo Oh, ti dà che ci fa Questo Sprego Allora, raga Visto che mi state chiedendo troppo di Aurora e Mura A noi non ci va Chiudiamo la life Ciao Ciao, raga Vi voglio bene Un bacio Andiamo a bello Ma che che? Andiamo a bello